poi sono state inglobate, ma poi risputate proprio dall'uso comune, giusto? Sì, ora stai allodendo a una cosa che è successa nel momento in cui non era l'inglese, ma il francese, la lingua che avendo un predominio di prestigio culturale, anche politico, il momento maggiore di questo influsso del francese in tutta Europa e nel mondo, ma anche quindi in Italia è stato, diciamo, rossolanamente il diciottesimo secolo, il settecento. Ecco, in Italia, fini letterati, non so come Algarotti o Parini, scrivevano «Vengo di fare, ho molto di amicizia con il partitivo francese» e in Parini c'è l'uomo il più, non mi ricordo se sensibile, che vi sia, e anzi forse posso cercare il passo esatto perché non mi piace citare Parini in maniera... Allora, l'uomo il più sensitivo della terra, dice Parini. Allora, queste sono costruzioni assolutamente francesi che facevano accaponare la pelle, ahi Mirabella, e amici vari nostri, insomma, e che interessantemente, se fossero diventate delle costruzioni usuali dell'italiano, cioè se invece di recedere, col recedere dell'intrusso francese, si fossero istituzionalizzate, noi oggi sentiremmo come assolutamente naturali. e perché ci sono invece costruzioni francesi che lo sono rimaste, quindi per esempio, come aspetta, ce n'è una con la negazione, che è sicuramente di origine francese, qualcosa come, non è che, insomma, abbiamo delle costruzioni, non mi ritorno, delle costruzioni sintattiche, non frequentissime, ma assolutamente italiane, che vengono dal francese e nessuno più se ne preoccupa. Ecco, oggi probabilmente le equivalenti inglesi sono cose come chi ha fatto che cosa, cioè la domanda con la doppia domanda K, oppure la costruzione di composti modificatore testa, come il Berlusconi pensiero, pensiero, e si arriva anche a cose come il Ferragni pensiero, pensate, quindi tanta è la voglia di fare questo tipo di composti. E una cosa che segnala Paolo D'Achille in un suo articolo uscito proprio in questi giorni, sugli atti dell'Associazione dell'Asli, è la citazione delle date all'anglosassone, quindi non 1820, ma 1820, che si estende per esempio anche nella vocalizzazione, in realtà semi-automatica, delle ferrovie per un treno Frecciarossa. Il treno Frecciarossa è 5490, oppure 5490, in realtà viene ormai letto 5490, e questo è all'inglese, quindi ci sono dei piccoli segni. Però sono cose molto piccole, in realtà un terreno assolutamente non colonizzabile dall'inglese, come non è stato colonizzato a suo tempo dal francese, è la morfologia. La cosa che io dico nel libro per chiarire, per dare evidenza, è che noi possiamo introdurre molte parole di origine inglese, quelli sono dei tasselli che la lingua è libera di usare, ma la lingua non è in questa, in quella parola, la lingua è nella struttura, nel motore, che impiega queste parole, e allora noi abbiamo il verbo testare, che viene dall'inglese to test, però non diciamo io test, tu test, lui tests, noi test, lo abbiamo trasformato in un verbo italiano, e quello che mi sembra interessante osservare, poi concludo la risposta per non allungarmi, è in tutti gli altri campi dell'agire umano, quando qualcuno prende qualcosa che è di qualcun altro, cioè qualcun altro si è preso la briga di produrre un oggetto utile, quando qualcuno ne ottiene la possibilità di usarlo, di farlo suo e di farci quello che vuole, ritiene di aver avuto un vantaggio, se qualcuno costruisce un oggetto, io poi lo uso, io penso, che vantaggio, lui ha lavorato, io lo posso usare, soltanto nel caso della lingua, se noi usiamo parole inglesi, invece di dire, ah guarda che vantaggio, loro hanno creato delle parole che noi non avevamo, oppure delle parole che da noi suonavano diverse, quindi significano la stessa cosa, ma suonano diverse, e pensiamo, noi ne abbiamo avuto uno svantaggio, e questo perché da una prospettiva, direi, utilitaristica, noi non siamo in questa prospettiva di vedere a cosa le cose possono servire, ma veniamo in una prospettiva di rivalità, una prospettiva tifosa, in cui non ci interessa più cosa possiamo fare con la lingua, ci interessa molto di più, chi sta vincendo, noi o loro? E allora sì, stanno vincendo loro, ma il motivo per cui stanno vincendo è che sono più bravi, cioè il prestigio della cultura anglosassone dipende dal fatto che loro sono più forti di noi, allora chi vuole arginare il fatto che loro sono più forti di noi, intervenendo sulla lingua, faccio questa metafora, è come chi, posto che il muro si stia infiltrando di acqua, lo vuole nascondere ripittandolo, non avrà successo. Prima di dare la parola ad Emanuele, che leggerà un estratto del libro, più forti in che senso? Perché il mondo anglosassone è più forte? Linguisticamente? Perché fanno più cose? Inventano più cose e quindi battezzano loro le cose? Perché sono più forti? Grazie che mi dai la possibilità di specificare meglio quello che stavo dicendo. Diciamo che quando si tratta, se restiamo sui prestiti o sui calchi, ma soprattutto sui prestiti, quando si tratta di prestiti cosiddetti di necessità, in cui cioè l'italiano, ora prendiamo l'italiano e l'inglese, ma vale in generale, la lingua di arrivo non dispone della parola perché la cosa è nuova e non ha ancora un nome, è successo con computer, film, sport, insomma una concettualizzazione nata altrove, a volte un oggetto, addirittura proprio Werther und Sachsen, un oggetto nato altrove, abbiamo bisogno della parola e nel momento in cui, esattamente come importiamo l'oggetto, importiamo anche la parola per tagli un nome. In quel caso la forza sta nel fatto che loro, questi loro, hanno inventato la cosa, l'hanno portata a funzionare e noi ci avvaliamo della cosa, soprattutto, e lì sta la loro forza, e la nostra minorità, perché siamo, diciamo, approfittiamo di qualcosa, di qualcuno che è stato un bel lavoro al posto nostro e anche con la, ma la cosa minore, anche la parola. Però, diciamo che questa forza, intanto permane, non è solo io ho inventato il computer, allora sono più forte di te, coad computer, cioè per quanto riguarda il computer, io se sono la civiltà che domina economicamente, geopoliticamente, inventa più cose, sono una civiltà che finisce per avere un maggiore prestigio. Allora, questo concetto fondamentale di prestigio che è della scuola italiana di linguistica, diciamo del Novecento, è molto importante, perché questo prestigio finisce per operare anche su parole che non vengono insieme con la cosa e sono i cosiddetti prestiti di lusso. Allora, meeting, tu dici, meeting, è chiaro che è un prestito di lusso, che ce ne facciamo di una parola meeting quando abbiamo già riunione, no? Questo è l'argomento che spesseggia in quelle obiezioni. Ecco, questo è un po' superficiale, perché la parola meeting è una parola che ha la stessa denotazione di riunione, se mai l'avesse, perché poi non è affatto detto che abbia, per esempio, un meeting può essere molto più grosso. Quello di CL a Rimini non è una riunione, no? Quindi già come denotato, come porzione di realtà che delimita, è una parola un po' diversa. Però anche se avesse esattamente lo stesso denotato, si connota diversamente. Allora, dicendo meeting, un giovane manager che vuole presentarsi come dinamico, interfacciato con il mondo, eccetera, eccetera, comunica un'impressione diversa che dicendo riunione. Ora, non spetta a noi decidere se questa impressione è giusto o sbagliata. No, questo è un fatto culturale, non linguistico. Ma se lui vuole dare l'impressione che darà dicendo meeting, non può farlo dicendo riunione. Sono parole che connotano il concetto in modo diverso. E mi sembra molto buffo che quelli che dicono siccome c'è già riunione non dobbiamo usare meeting, ma allora siccome c'è malattia dobbiamo togliere patologia, morbo, malanno. Siccome c'è quindi dobbiamo togliere dunque, ergo, onde, perciò. ci hanno mai pensato le persone che vogliono una sola parola per ogni denotato a quanto dovremmo sfrondare l'italiano di tutta la ricchezza che ha perché ha i sinonimi che non sono mai i sinonimi perfetti. Io agli studenti e poi finisco questa per orazione, agli studenti a un certo punto, a una certa lezione dico chi mi trova a due sinonimi perfetti io gli regalo X ogni anno cambio un pochino allora mi arrivano con pantaloni e bracche e poi io gli facile gioco a dimostrargli che sono sinonimi quanto al denotato ma che chiaramente usare uno usare l'altro dà di te una diversa impressione quindi sono almeno sociolinguisticamente diversi e nessuno riceve mai questo regalo potrei mettere in palio il ponte di Brooklyn. Grazie a tutti